Marilena Formato ed io vogliamo darvi il benvenuto e ringraziarvi davvero tanto per la vostra presenza, la vostra attenzione a queste attività che svolgiamo nel programma dell'Accademia dei Lincei per una nuova didattica. Oggi pomeriggio tratteremo dell'importanza del linguaggio nella comunicazione in abito biomedico. Volevo chiedere a tutti per favore di mettere il microfono off in modo che se c'è qualche rumore in casa non interferisce. L'importanza del linguaggio nella comunicazione in ambito biomedico è evidente a tutti l'importanza del linguaggio e della trasmissione delle notizie attraverso il linguaggio, i social media, eccetera. Però l'abbiamo voluto focalizzare in ambito biomedico perché in questo periodo probabilmente è l'ambito che più facilmente va incontro a delle problematiche legate a come le notizie vengono trasmesse, vengono comunicate, vengono riportate, eccetera. E quindi abbiamo pensato che focalizzarci in questo ambito fosse interessante. Naturalmente interessante per voi ma il nostro scopo è quello che poi tutti quanti voi trasmettiate le cose che si dicono, la discussione che faremo insieme ai vostri ragazzi perché quello è l'obiettivo finale di tutti quanti noi. Stasera ci muoveremo così, io e Marilena a formato, introdurremo i nostri tre relatori e poi lasceremo dopo ciascuna relazione il tempo per una o due domande, quelle più urgenti, chiamiamole così. Dopodiché alla fine, come sempre, ci sarà una discussione generale con tutti quanti voi. Le domande vi chiediamo di farle perlomeno nella prima parte, cioè subito dopo la relazione del nostro relatore, di farle attraverso la chat. E poi io, Marilena, Gabriele Niedu, le trasferiremo al nostro relatore. L'ordine delle presentazioni è questo. Il primo relatore sarà Pierpaolo Ciccarelli. Pierpaolo Ciccarelli è un professore in filosofia morale ed è coordinatore del corso di laurea in filosofia dell'Università di Cagliari e i suoi studi riguardano prevalentemente la filosofia tedesca e contemporanea. Perché un filosofo in ambito biomedico? Perché i filosofi e i biologi medici si pongono esattamente le stesse domande. Poi queste domande vengono declinate in maniera diversa, a seconda della formazione, per trovare delle risposte. Col professor Ciccarelli abbiamo avuto tanti modi di partecipare a tanti seminari, tanti convegni insieme, proprio convegni che avevano relatori esperti in ambito biomedico e filosofi, proprio sulla base di questa idea fondamentale importantissima che diventa ancora più importante in questo periodo per aiutarci a riflettere. Quindi vorrei dare la parola a Pierpaolo Ciccarelli che parlerà della distorsione delle verità biomediche nella protesta NOVAX, come spiegarla. Grazie Pierpaolo. Grazie Micaela. Mi preme innanzitutto ringraziare te e le organizzatrici, gli organizzatori di questo seminario e l'istituzione, soprattutto anche prestigiosa in cui ha luogo, è un onore per me poter parlare. Allora, il mio contributo al tema di questo incontro consisterà nell'analisi di un esempio, per così dire, negativo di comunicazione in ambito biomedico. Un esempio cioè nel quale la conoscenza biomedica incontra difficoltà a comunicarsi, si va incontro soprattutto a fraintendimenti e distorsioni. Ho scelto di affrontare in questo modo l'argomento perché, come spiegherò alla fine, l'esempio del discorso NOVAX consente di mettere a fuoco qual è propriamente il problema di linguaggio che pone la comunicazione biomedica non specialistica, cioè quella che non avviene tra dette lavori. perché appunto il discorso NOVAX appartiene a questa dimensione della comunicazione scientifica. Allora, due premesse però. Innanzitutto, prima di cominciare il ragionamento, scusate devo avviare il cronomeno, se no non mi riesco a orientare. Allora, io non sono un NOVAX, personalmente ritengo che un NOVAX abbiano torto. Credo però che per analizzare la questione, il fenomeno, ci debba avere un atteggiamento, per così dire, sineira e studio. Quindi non cercherò di dimostrare la falsità del fatto che i NOVAX mettano in giro delle falsità scientifiche. È un compito questo che lascio a chi è competente per poterlo fare. La mia domanda è un'altra, ed è perché si dà così tanto credito a certe presunte verità alternative a quelle fornite dalla comunità scientifica accreditata. Ora, a questa domanda, gli avversari dei NOVAX, quelli che militano per la scienza, per i vaccini, danno normalmente una risposta che secondo me è insoddisfacente, cioè dicono che i NOVAX sono irrazionali, sono persone animate che mutano dai pregiudizi e di cui poi la posa, come dire, illuministica esibita da tanti esperti che sono animati dall'intenzione di liberare chi ha il pregiudizio dal pregiudizio. Ecco, io penso che questo modo di intendere, questa risposta, sia forbiante e quello a cui io voglio andare a parare è mostrare che i NOVAX non sono affatto irrazionali, sono anzi animati da un bisogno di razionalità portato all'estremo, come una sorta di estremizzazione del bisogno di razionalità. E questa è la tesi un po' provocatoria, detta in modo un po' provocatorio, spero poi di riuscire a spiegarlo, a cui voglio andare a parare. Ora, la seconda premessa è questa, ed è ovvia, nonostante la presentazione di Micaela molto benevola nei miei riguardi, io non sono uno scienziato, non sono un biologo, sono uno studioso di filosofia e quindi mi servirò degli strumenti analitici che mi offre la mia materia e in particolare mi servirò della storia della filosofia, di un classico, quindi non vi stupisca che per parlare di un problema attuale mi servirò di pagine scritte 500 anni fa, però appunto questo fa parte del metodo, del mio metodo. Quindi, per cominciare il ragionamento, lo cominciamo con una ovvietà, con rilevare un'ovvietà. Da quando il Covid ha fatto irruzione nelle nostre vite, le verità biomediche sono diventate uno dei principali argomenti della comunicazione pubblica. E il motivo è evidente, poche cose ci appaiono oggi altrettanto utili delle conoscenze biomediche. E badate, che le conoscenze biomediche siano utili lo pensano anche i Novax, e poi dopo vi spiegherò perché, arriverò a questo punto. Quindi anche chi le critica in realtà pensa che abbiano una loro efficacia, per altri fini, che non sono quelli dichiarati, ma abbiano una loro efficacia. Quindi questa è un'ovvietà condivisa. E normalmente sulle ovvietà non sembra necessario soffermarsi, già che appunto sono sotto gli occhi di tutti, quindi non c'è niente da dire. Sennò che le ovvietà sono spesso degli oggetti un po' strani, perché è facile ammetterle, facile riconoscere, perché sono sotto gli occhi di tutti, e tuttavia, per la stessa ragione, perché sono sotto gli occhi di tutti, è difficile capirle, è difficile articolarne il senso. Uno dei compiti principali della filosofia è, forse questo vi potrebbe sembrare strano che io lo dica, è articolare il senso dell'ovvietà, è capire ciò che è ovvio, è capire ciò che ci sta davanti. E uno degli strumenti che la filosofia ha a disposizione per svolgere questo compito è proprio la storia della filosofia, la lettura dei classici. Perché? Perché i classici ci consentono di mettere a distanza l'ovvietà. Ecco, e cercherò di servirmene di questo strumento. Dunque, quel che oggi ci pare così ovvio, ossia l'utilità delle conoscenze biomediche, potremmo parafrasarlo con un'espressione coniata da un grande ingegno italiano, possiamo dire, del Cinquecento, cioè da Niccolò Machiavelli. E potremmo dire che le verità biomediche sono oggi più che mai verità effettuali. Verità effettuali. Questa espressione la traggo da una pagina, dal capitolo quindicesimo del Principe, che adesso vi metto, io non posso leggere tutto, come tutte le cose di Machiavelli, sono molto, sono delle grandi opere d'arte letterarie. vi leggerò soltanto questa frase qui, del capitolo quindicesimo. Dice Machiavelli, ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dritto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. e molti si sono immaginati repubbliche principate che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero, eccetera. Allora, cosa trarre da questa, perché vi sto leggendo? Cercare di capire che significa verità effettuale. Verità effettuale non significa verità di fatto. Lo capiamo da quello che qui dice Machiavelli. Machiavelli dice la verità effettuale è ciò che occorre seguire laddove vogliamo raggiungere qualcosa di utile. Sendo il mio intento raggiungere qualcosa di utile, ho pensato che è meglio andare dritto seguire la verità effettuale piuttosto che l'immaginazione della cosa. Quindi bisogna preferire la verità effettuale alla immaginazione per fare qualcosa di utile, per dire qualcosa di utile. Vediamo questa dicotomia verità effettuale e immaginazione della cosa. Quando Machiavelli parla di immaginazione della cosa si capisce dal contesto dal seguito del passo che sta alludendo a una cosa molto importante. Sta alludendo niente meno che all'intera tradizione del pensiero politico occidentale che inaugurato dalla Repubblica di Platone prosegue per due millenni fino a quando lui scrive quasi senza interruzione. In questa tradizione l'interesse primario della scienza politica ma in realtà non solo della scienza politica di tutta la scienza antica è rivolto alla determinazione del fine dello scopo del senso della vita politica ossia di ciò che da Machiavelli in poi si chiamerà lo Stato. Quindi la dicotomia che qui Machiavelli pone tra verità effettuale e immaginazione indica due diversi interessi della conoscenza umana l'interesse per il fine per la teleologia della cosa e questo è quello che Machiavelli chiama immaginazione della cosa e l'interesse per il mezzo ossia per il modo in cui la cosa può venire prodotta causata quindi l'aggettivo effettuale nell'espressione verità effettuale badate che l'espressione verità effettuale sembra che non sia mai stata usata prima di Machiavelli è un suo conio questa connessione tra verità e effettualità ebbene l'aggettivo effettuale è tratto va compreso a partire dal suo etimo cioè da efficere faccio facere produrre mandare ad effetto la verità effettuale nel senso machiavelliano è la verità efficace la verità produttiva intesa produrre effetti l'immaginazione invece del discorso appunto sul fine sullo scopo un discorso che Machiavelli qui esclude dal novero dei discorsi veri che abbiano a che fare con la verità la verità riguarda solo i mezzi la collocazione teleologica della cosa il suo ordine finalistico non è questione che riguardi la scienza ora il principe tutti sanno è un trattato di politica di scienza politica una riflessione politica e sembrerebbe che non abbia nulla a che fare è quello che dice Machiavelli qui con le scienze che invece si occupano della natura la biologia la fisica in realtà non è così perché questa dicotomia che Machiavelli esprime qui con questa anche in questo così con questo vigore letterario verità effettuale immaginazione della cosa in realtà mette in rilievo uno dei tratti distintivi e lo fa con una sorprendente anticipo mette in rilievo uno dei tratti distintivi della nascente fisica moderna e porta ad espressione più in particolare la radicale rottura che la fisica moderna compie rispetto alla tradizione scientifica antica cioè l'aristotelismo e qual è la rottura con la questione delle cosiddette cause finali la natura quale la intende la scienza moderna non è un ordine teleologico non ospita in se stessa dei fini ma solo dei nessi causali ovvero effetti che hanno cause le quali sono effetti di cause le quali sono effetti di causa ovvero una catena interminabile di cause e effetti che non ha una causa ultima quelle che per la fisica aristotelica erano appunto le cause finali ora quale attinenza questo argomento di storia della filosofia così astratto con la questione molto attuale che stiamo trattando beh credo che ci consente di mettere a fuoco questo concetto di verità effettuale la sua differenza dall'immaginazione della cosa di mettere a fuoco con maggior precisione con con precisione qual è il problema che i novax sollevano quello che i novax mettono in dubbio è anzitutto l'efficacia delle conoscenze biomediche la medicina sostengono non fornisce conoscenze idonee a combattere efficacemente la pandemia è l'argomento sovente ripetuto negli ultimi tempi basato sul fatto che i vaccini non impediscono ad esempio la diffusione del virus ma a guardar bene però la protesta novax non si limita a dire che la medicina è inefficace afferma bensì che le verità biomediche pur essendo inefficaci inadatte allo scopo che apertamente dicono di perseguire sono tuttavia efficaci e adatte a raggiungere altri scopi diversi da quelli apertamente dichiarati la medicina è utile per chi trae profitto dalle sue presunte verità le grandi case farmaceutiche che traggono profitto dalla vendita dei vaccini oppure lo Stato che con l'introduzione dell'obbligo vaccinale basato sulle verità fornite dalla scienza ufficiale come la chiamano loro riesce ad estendere il proprio potere di controllo sulla vita privata dei cittadini in un modo che finora non era concepibile dunque in questo discorso la verità biomedica è efficace e non efficace è inefficace allo scopo che essa proclama ma tuttavia è efficace per altri scopi scopi nascosti e inconfessabili appunto il potere economico e politico ebbene questa è proprio questa ambivalenza del discorso Novax che ci fa capire quanto sia forviante dipingere costoro come individui irrazionali in realtà se si considera con attenzione ci accorgiamo che il discorso Novax è un discorso iperrazionale cioè porta all'estremo radicalizzandolo alla domanda di razionalità e lo vediamo anzitutto se osserviamo il motivo per cui i Novax ritengono che la campagna vaccinale sia fallita e vada quindi respinto l'obbligo di vaccinarsi il fallimento è dovuto al fatto che il vaccino non elimina il rischio del contagio questo non è un argomento irrazionale anzi è un argomento molto plausibile ma il punto è che cosa lo rende plausibile lo rende plausibile il presupposto che si dà per scontato e che sembra appunto assolutamente condivisibile che la razionalità di una misura cautelativa qual è appunto il vaccino è proporzionale alla sua capacità di eliminare il rischio in nostro caso il rischio del contagio ebbene è un presupposto plausibile soprattutto perché viene incontro ad un desiderio naturale di ciascuno di noi il desiderio di essere immuni dal rischio dall'imprevisto dagli eventi sfavorevoli da quello che con una parola così tecnico-filosofica si direbbe la contingenza e tuttavia per quanto possa parire plausibile e condivisibile da ciascuno di noi se uno sta al proprio desiderio naturale e questo è un presupposto che è incompatibile con la natura della verità effettuale e anche a questo riguardo appunto la storia della filosofia un classico come Machiavelli ci può aiutare a vedere meglio come ho detto prima contrapponendo la verità effettuale della vita politica alla immaginazione di essa Machiavelli sostituisce la ricerca del fine con la ricerca del mezzo ciò che interessa non è il fine dello Stato ma come acquisirlo e una volta acquisito come riuscire a mantenerlo al principe italiano a cui dedica il suo omonimo trattato Machiavelli vuole insegnare come assicurarsi dal rischio di perdere lo Stato ma è del tutto chiaro Machiavelli che il rischio in se stesso in questo proposito educativo che lui persegue nel principe bene il rischio in se stesso non è eliminabile il rischio è a tal punto ineliminabile innegabile che Machiavelli ne fa addirittura il presupposto ontologico della verità effettuale cioè in termini meno tecnici il rischio la contingenza è la ragione d'essere della verità effettuale e del perseguimento della verità effettuale e qui ci viene in aiuto un'altra pagina del principe che contiene una metafora celberrima si tratta del penultimo capitolo del principe che solleva una questione tipicamente teologica i due ultimi capitoli del principe sono percorsi da una da una vena teologica la questione che pone Machiavelli nel venticinquesimo appunto è la classica questione teologica del rapporto tra la l'onnipotenza di Dio che qui però qui Machiavelli ambigualmente chiama Dio o la fortuna e la libertà umana dunque la questione è ma Dio è l'unico regista il video o la fortuna è l'unico regista del corso del mondo o vi è uno spazio nel corso del mondo per la virtù cioè per la libertà umana per la capacità dell'uomo di costruire e di dirigere il corso del mondo per rispondere a questa domanda appunto Machiavelli usa una metafora cereberrima che adesso leggiamo questa qui la leggiamo anche perché si tratta di un testo molto bello e dice questo è il venticinquesimo vi leggo soltanto la parte che qui ho sottolineato dice dopo aver posto la questione se c'è uno spazio per la libertà umana per la virtù oppure se tutto quello che accade accade perché così Dio vuole ovvero perché la fortuna così Dio vuole dice Machiavelli non di manco perché il nostro libero arbitrio non sia spento iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre ma che Eziam lei ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi e t'assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che quando sadirano allagano i piani ruinano gli arberi e gli edifizi lievono da questa parte terreno pongono da quell'altra ciascuno fugge loro dinanzi ognuno cede all'impeto loro senza potervi in alcuna parte obstare e benché siano così fatti non resta però che gli uomini quando sono tempi inquieti non vi potessino fare provvedimenti e con ripari e targini in modo che crescendo poi e andrebbero o andrebbero per uno canale o l'impeto loro non sarebbe nessì licenzioso nessì dannoso similmente interviene della fortuna la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle e qui rivolta gli suoi impeti dove la sa che non sono fatti argini e li ripari a tenerla allora ora questa questa pagina fa emergere di nuovo per il modo in cui tratta il rapporto appunto tra la fortuna e la virtù umana e la virtù umana è la capacità anche di costruire appunto gli argini come dice qui di nuovo e quindi di controllare l'impeto della natura emerge qui nuovamente la differenza di fondo tra la scienza antica e la scienza moderna la scienza antica presuppone che la natura costituisca un ordine teleologico e di conseguenza il disordine la contingenza è scientificamente irrilevante anzi non è suscettibile di scienza la scienza moderna all'opposto è da cima a fondo una scienza della contingenza del disordine l'ordine per dirla con la metafora machiavelliana è soltanto un'argine e qui per ordine dovete appunto pensare anche alla verità l'ordine è soltanto un'argine prodotto dall'uomo per controllare e rendere abitabile un universo naturale che è intrinsecamente inabitabile perché è in se stesso privo di senso se ora torniamo all'argomento nostro che stiamo trattando stando sulle spalle di Machiavelli ci accorgiamo che il presupposto che sta alla base della critica a Novax delle misure precauzionali biomediche per quanto possa sembrare plausibile è in conflitto con lo scopo stesso delle scienze e delle scienze biomediche in particolare perché lo scopo delle scienze biomediche non è l'eliminazione del rischio è il controllo del rischio come potremmo usare un'analogia la scienza funziona come un'assicurazione mira a diminuire i danni che possono venire provocati dal verificarsi nel futuro di un evento più o meno probabile è chiaro che alla luce di questa analogia la strategia della vaccinazione di massa appare tutt'altro che fallimentare perché è difficile negare che l'obiettivo della diminuzione dei danni dipendenti dal contagio sia stato raggiunto è non meno evidente però è che osservato dal punto di vista costituito dal desiderio naturale di una immunità dal rischio questo risultato non può che apparire deludente è appunto questo sentimento di delusione a trovare veemente espressione sociale nel discorso novax la protesta novax è una sorta di amplificatore sociale della delusione delle aspettative che si ripongono nella biomedicina ma questo significa che qui c'è un paradosso cioè che la delusione è direttamente proporzionale all'aspettativa se non ci fosse l'aspettativa non vi sarebbe la delusione dunque tra fiducia e sfiducia in realtà c'è un nesso e questo nesso paradossale il paradosso sta nell'atteggiamento verso la scienza per un verso di fiducia per un verso di sfiducia ecco questa ambivalenza in qualche modo è confermato dalla dall'ambivalenza che ho richiamato prima che è caratteristica del discorso novax prima ho detto i novax denunciano l'inefficacia delle misure adottate sulla base dei pareri degli esperti ma allo stesso tempo ritengono che tali misure abbiano una loro peculiare efficacia che è quella anzi sono oltremodo efficaci perché appunto servono ad un apparato gigantesco e onnipotente preposto al raggiungimento di fini economici e politici insomma sto alludendo alle teorie cospirative che sono oggi divenute così virali e anche a questo proposito di questi miti cospirativi bisogna guardarsi da semplicemente dallo stigmatizzare o meglio le si può stigmatizzare ma bisogna anche capirle cioè il problema non è dimostrare che sono anzitutto dimostrare che sono false ma è capire perché vi si crede è una possibile spiegazione ce la suggerisce il ragionamento questo parte del ragionamento di Machiavelli che vi ho posto dinanzi le teorie cospirative sono il frutto dell'immaginazione della cosa rispondono che ripeto l'immaginazione della cosa è il discorso sul fine rispondono cioè ad una domanda di senso di compiutezza di completezza e quindi di ordine di razionalità che non può venire soddisfatta dalla verità effettuale delle conoscenze biomediche che però in qualche modo è sollecitata dalle conoscenze biomediche i cospiratori i cospiratori poi pensate all'archetipo di tutte le teorie cospirative cioè i famigerati protocolli dei salvi di Sion lì sono gli ebrei i cospiratori ma lo schema è sempre quello ci sono dei cospiratori possono essere le banche di farma le burocrazie sovranazionali sono potremmo dire dei fantasmi che riempiono un vuoto una mancanza di senso avvertita come angosciosa quindi il fantasma questo fantasma dell'immaginazione dei cospiratori dei grandi burattinai assolve la funzione di un garante garantisce che l'apparente assenza di ordine sia appunto soltanto apparente che non sia puro e semplice caos inspiegabile e perciò stesso angosciante contingenza quindi questa attribuzione di potere che viene dato a ciò che non è che d'altra parte non ha potere perché non è capace di combattere la pandemia risponde a questa esigenza di chiudere il cerchio perché la contingenza angoscia e questo era il ragionamento diciamo generale che volevo fare adesso però volevo arrivare alla questione del linguaggio perché quello che ho detto poi mi serve per fissare il punto sul linguaggio allora io ho scelto di analizzare questo fenomeno Novax perché mi pare un caso molto istruttivo di divulgazione scientifica e qui intendo divulgazione nel senso etimologico da vulgus quindi da popolo massa gente comune cioè quindi analizzarlo ci aiuta a capire che cosa accade quando il discorso biomedico qualsiasi discorso scientifico viene a trovarsi coinvolto in processi comunicativi che non sono processi comunicativi intrascientifici quelli che funzionano tra gli addetti ai lavori ogni divulgazione scientifica positiva o negativa che sia informata o disinformata oppure volta all'informazione o volta alla disinformazione è sempre comunque una traduzione per così dire del linguaggio specialistico nel linguaggio che diciamo naturale cosiddetto naturale quello che parliamo quindi questo implica che la divulgazione scientifica per poter funzionare è costretta ad abbassare la soglia di protezione garantita dalla specializzazione del linguaggio il linguaggio scientifico specializzato grazie alla univocità che esso ottiene mediante la stipulazione convenzionale dei significati è un linguaggio appunto questo linguaggio stipulato è un linguaggio protetto assicurato controllabile funziona per dirla con la metafora di Machiavelli come un'argine a difesa dai processi interpretativi ossia dai processi che sono sempre potenzialmente eversivi disorganizzanti deformanti destrutturanti detto in altro modo più semplice per quanti sforzi possiamo fare di dare informazioni corrette l'effetto pubblico di tali informazioni a causa di questa traduzione dal linguaggio specialistico al linguaggio comune rimane comunque esposto ad una contingenza ineliminabile e quindi a rigore non si può nemmeno parlare di effetto pubblico perché qui non c'è una ragione che dà conto dell'effetto non c'è un messo di causa effetto e quindi ci troviamo a una situazione simile a quella di cui ho parlato prima a proposito del rapporto tra verità effettuale in natura cioè il presupposto di senso della costruzione scientifico tecnica dell'ordine causale è la natura intesa come radicale mancanza di ordine e quindi la conoscenza citiva non è una progressiva eliminazione dell'apparenza di disordine ma un'assicurazione interminabile degli effetti negativi generati da un disordine ineliminabile presupposto come innegabile ecco a proposito della divulgazione scientifica possiamo osservare qualcosa di analogo cioè trovandosi nella necessità di tradurre il linguaggio specializzato nel linguaggio naturale chi fa divulgazione immette la verità scientifica in una dimensione il linguaggio naturale appunto che rimane in linea di principio incontrollabile bene come affrontare allora questa difficoltà beh io penso per prima cosa che quando si fa quando si si trova a fare questo mestiere insomma in fondo poi non tutti i docenti fanno questo mestiere no? perché per insegnare non sto parlando con il collega sto parlando a qualcuno che deve essere introdotto nella dimensione della disciplina e quindi siamo tutti i divulgatori ecco quando facciamo questo mestiere la prima cosa la cosa più importante è quella di riflettere attentamente sulla su quel che si sta facendo per avere chiara consapevolezza dei limiti che sono posti al al proprio operare ora questo potrebbe potreste dire beh ma questa è un'indicazione banale eppure a me sembra che questa massima di rendersi conto dei limiti del proprio operare venga spessissimo disattesa l'esempio più eclatante è fornito da diversi miei colleghi filosofi e anche qualche scienziato devo dire ma sono pochi che si sono di questi tempi appunto proposti quali intellettuali di riferimento della proposta Novax ecco io la cosa che personalmente trovo che più mi stupisce non è tanto che si parla che costoro parlano spesso di cose che non che non conoscono dico sto parlando ovviamente dei filosofi perché questa è una mancanza in fondo trascurabile che potrebbero facilmente rimediare quello che a me più stupisce è che questi miei colleghi non sembrano rendersi conto del fatto che i loro discorsi anche quando sono competenti dottissimi filosoficamente profondi quando diventano slogan di piazza assumono significati che hanno ben poco a che fare con quello che essi intendevano dire in certo senso non c'è verità filosofica che una volta trasmessa e recepita senza che si faccia lo sforzo necessario richiesto per intenderla non rischi di diventare un grossolano errore questa è una difficoltà in cui urta specialmente la filosofia ma che come ho cercato di dimostrare riguarda tutta la scienza cioè in fondo il fraintendimento a cui va incontro la verità biometrica nel discorso Novax riguarda non tanto questa o quella conoscenza particolare riguarda anche quello però il punto centrale è che il fraintendimento riguarda il senso e i limiti dell'operare tecnico-scientifico e purtroppo di tale fraintendimento sono responsabili non volendolo chiaramente anche coloro che in totale buona fede si ergono a paladini della scienza e della tecnica parlandone in toni trionfalistici ed apologetici io credo che la scienza non ha bisogno di essere difesa e propagandata ciò di cui ha veramente bisogno è di venire compresa per quello che essa realmente è e il rischio del fraintendimento è come ogni rischio è ineliminabile però possiamo costruire degli argini possiamo fuori di metafora lavorare affinché le istituzioni scolastiche e universitarie non deflettano dalla vocazione primaria per cui sono state create e purtroppo su questo secondo me ci sono molti equivoci la vocazione dico forse cose che molti di voi considerano inaccettabili ma insomma la vocazione universitaria delle istituzioni scolastiche universitarie non è trovare posti di lavoro non è non è non è l'inclusione sociale non è la parità di genere non è nemmeno arrestare il cambiamento climatico con questo non voglio dire che questi non siano scopi socialmente di primaria importante sto solo dicendo che non sono i fini specifici di delle istituzioni di queste istituzioni sociali cioè la scuola e l'università fine ultimo della scuola e dell'università e queste due cose non possono essere raggiunte è anzitutto di tipo formativo e la ricerca è una funzione della formazione e non viceversa e quindi io credo che scuola e università e ciascuna disciplina nel suo specifico deve trasmettere le proprie conoscenze per offrire alle nuove generazioni la chance di capire il mondo in cui vivranno un mondo che sarà fatto non meno del nostro sia di verità effettuali sia di immaginazioni della cosa e di qui l'importanza di tenere insieme anche discipline scientifiche e discipline umanistiche quali argini queste nuove generazioni si troveranno a dover costruire non possiamo saperlo non possiamo sapere nemmeno se nel costruirli questi argini potranno far tesoro di quel che noi docenti abbiamo loro insegnato a scuola e all'università e non possiamo saperlo per una ragione ovvia che di nuovo ha a che fare con la contingenza noi docenti non abbiamo ancora fatto le esperienze che faranno le nuove generazioni in relazione alle quali avrà senso prendere questo o quel provvedimento l'unica cosa che sappiamo e qui cito un altro grande ingegno italiano cioè Gian Battista Vico è che mundus juvenescit ad hoc il mondo ancora ringiovanisce ecco questo secondo me è il presupposto del nostro lavoro è ciò a cui ci dobbiamo ispirare vi ringrazio grazie grazie a te Pierpaolo adesso come vi ho detto c'è la possibilità per tutti voi di fare una due domande a Pierpaolo prima di arrivare alla discussione generale mentre magari qualcuno di voi pensa io vorrei soffermarmi su una delle ultime cose che hai detto Pierpaolo e cioè che la scienza ha bisogno di essere compresa per quello che realmente è fondamentalmente non è la scienza che ha bisogno di essere compresa per quello che realmente è il vero nocciolo della questione è conoscere il metodo scientifico allora se si conosce il metodo scientifico si riesce a comprendere tutto parlo di Galileo del metodo scientifico Galileano perché 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 tu dici perché si crede alla scienza dicevi perché la gente aspetta l'immunità dal rischio ecco questo non esiste nel metodo scientifico non esiste nella scienza questo è un miracolo stiamo parlando di cose sovrannaturali della religione di quello che uno crede in questi ambiti oppure di teorie non stiamo parlando di scienze il metodo scientifico non ha verità tu fai un esperimento tieni dei risultati e non li spacci mai per verità se utilizzi e se hai una mentalità che è parte consapevole del metodo scientifico perché quei risultati potranno essere messi in distruzione vent'anni trent'anni dopo quando magari si scopre qualcosa di nuovo una nuova metodica o si viene a conoscenza di qualcosa che non si conosceva prima e quel risultato viene messo in discussione questo avviene sempre nella scienza non è un non è un problema fa parte del metodo scientifico l'importante è che quando tu definisci qualcosa l'hai definita l'hai studiata seguendo un metodo scientifico quello che spesso si dice in questo periodo è che si sentivano microbiologi virologi epidemiologi litigare non è litigare è discutere di risultati che possono essere visti attraverso un'ottica dell'epidemiologo che quindi prende più in considerazione magari la statistica o del virologo che ti parla magari di più di altre cose che riguardano il virus quindi il vero problema che io sento nel mondo moderno è la mancanza di conoscenza del metodo scientifico in questo davvero i professori delle scuole possono e devono avere un ruolo fondamentale perché se si conosce si comprende il metodo scientifico si può poi affrontare il mondo e Cristina forse tu non eri presente abbiamo detto che le domande vanno poste nella chat per favore non per alzata di mano ma attraverso la chat ti dispiace scrivere quello che vorresti dire va bene però siccome tu non hai fatto una domanda mi stavi trascinando io non sto facendo una domanda Cristina mi riservo di intervenire dopo mi riservo di intervenire come preferisci come preferisci io stavo agendo da moderatrice per dare il tempo di scrivere le domande e stavo facendo una considerazione su quello che ha detto per Paolo non stavo facendo una domanda infatti allora c'è invece qualche domanda e se no passiamo passo la parola a Marilena Formato che introdurrà il secondo relatore sì grazie Michela prima di introdurre il secondo relatore approfitto di questo momento di pausa diciamo per dare alcune comunicazioni di servizio ai docenti come tutti gli altri anni troverete le registrazioni su canale youtube dell'accademia degli inceri e avrete modo di vedere le presentazioni powerpoint laddove ci sono insomma quindi il materiale di questa conferenza in una cartella dropbox condivisa che ovviamente gli iscritti a questo corso interdisciplinare avranno modo di consultare d'accordo introduco adesso il collega Marco Tamietto è un neuroscienziato e professore ordinario di psicobiologia all'università di Torino è stato invited visiting scientists all'università di Oxford dal 2015 al 2017 visiting fellow Royal Netherlands Academy of Arts Sciences nel 2018 e ha svolto numerosissime ricerche sulle basi neurali del sistema visivo delle emozioni e della coscienza sia nell'uomo che in primati non umani oggi ci parlerà di come comunicare il valore della sperimentazione animale in particolare implicazioni etiche e sociali quindi do la parola a Marco che può prendere la funzione di relatore grazie molte grazie a Maria Elena che è una professoressa formata professoressa Morelli e gli organizzatori e grazie professor Ciccarelli di cui ho sentito con grande interesse la presentazione e che in qualche modo mi dà un punto di partenza abbastanza agevole nel declinare alcuni dei principi che lui giustamente come dire da filosofo ha enunciato nei termini generali e provare come dire a declinarli in una situazione specifica che diciamo mi ha ha coinvolto e quindi non è in realtà non c'è nessun particolare piacere egocentrico nel rappresentarvi insomma questa edenti ma abbiamo trovato che potessero essere diciamo un caso paradigmatico di diverse altre vicende che incrociano temi comuni che hanno a che fare in qualche modo con la comunicazione della scienza in particolare con la comunicazione di aspetti non hobby perché si intersecano con questioni etiche rilevanti e bioetiche che hanno a che fare con il tipo di linguaggio che viene usato e le conseguenze che diversi registri linguistici o diverse modalità di comunicare i propri intendimenti quindi la ricerca o l'avversione verso la ricerca o un tipo di ricerca che quello che che fa uso di sperimentazione animale comporta e anche diciamo alcune conseguenze sociali di questi di questi comportamenti sia rispetto appunto all'atteggiamento verso le fake news all'atteggiamento verso l'ate speeching ma anche verso quella che come cercherò insomma così molto brevemente di illustrarvi ha a che fare generalmente parlando con la agibilità scientifica di un paese cioè con la possibilità di fare ricerca scientifica di produrre gli avanzamenti di cui ciascuno come dire riesce a fare nel piccolo del suo del suo ambito e delle sue discipline e di poi offrirle diciamo alla società sia in termini di conoscenze sia in termini si spera di contributi rispetto al miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone che sono poi diciamo i destinatari ultimi di questi avanzamenti conoscerti il tutto insomma spero abbastanza semplicemente e abbastanza rapidamente per non annoiare provo a condividere lo schermo e vediamo se ce la facciamo già che insomma è già un un discreto successo ecco magari io nel momento in cui ho condivido lo schermo non vi vedo più quindi magari chiedo solo a Michela se mi dici che vedete è tutto a posto si vede benissimo benissimo grazie bene come vi dicevo insomma non voglio spendere troppe parole rispetto a quella che è stata la mia vicenda ma due parole giusto di contesto per poi consentirci di andare avanti le devo dedicare io sostanzialmente come ha anticipato la professoressa mi occupo di sistema visivo e quello che sappiamo è che una lesione alla parte del cervello che rappresenta la scena davanti ai nostri occhi produce diciamo una porzione cieca nella mappa della dello spazio esterno e questa porzione cieca è proporzionale all'extension della lesione questa è la parte diciamo posteriore del cervello che vedete nel lobocipital che rappresenta la scena davanti ai nostri occhi e qua vedete diciamo una relazione tra le porzioni cieche che sono quelle rappresentate qua diciamo dal pallino rosso o da un quadrato rosso o da un intero campo metà del campo visivo rosso che sono proporzionali e rappresentano quindi il riflettersi di questa geografia con cui lo spazio e la rappresentazione retinotropica è mappata in corteccia visiva ora dico questo solo per dire che questa parte finale diciamo di rappresentazione della scena visiva ad opera del cervello non fa uso di una sola mappa ma di molteplici mappe che vedete qua come dire sintetizzate in cui appunto lo spazio esterno viene rappresentato e rirrappresentato diverse volte e queste mappe sono molto simili nel sistema visivo dell'uomo e dei primati non umani e la finalità ultima diciamo del programma di ricerca che io e molti altri colleghi portiamo avanti che ha ottenuto diciamo un finanziamento europeo di una certa entità e di un certo rilievo è quello di cercare di utilizzare le proprietà di alcune di queste mappe che restano intatte a seguito di una lesione per cercare diciamo di promuovere plasticità di vicariare funzioni e in ultima analisi di consentire ai pazienti che hanno questo tipo di cecità corticale quindi non per un problema periferico alla retina o all'occhio ma per una lesione al sistema nervoso centrale alle cortecce visive di appunto recuperare alcune funzioni bene in questo percorso se vogliamo cercare non solo di descrivere queste mappe e le loro funzioni ma vogliamo cercare di intervenire attivamente nel modulare la loro plasticità nel ristabilire connessioni nel provocare modificazioni strutturali e funzionali abbiamo due opzioni la prima è utilizzare un modello per testare quali tra le molteplici strade i molteplici interventi attivi e le molteplici strutture su cui intervenire e quindi usare un modello animale di sistema visivo molto simile a quello dell'uomo per scartare alcune strade e per seguirne altre che sembrano più efficaci e l'altro possibilità è quello di utilizzare direttamente i pazienti come delle cavie quindi c'è una questione naturalmente etica in ballo di cui torneremo a parlare che è quella tipica della sperimentazione animale cioè quella di compendiare interessi diversi da un lato c'è l'interesse alla salute alla cura all'avanzamento delle conoscenze dall'altro c'è naturalmente il tema del rispetto delle vite altre rispetto alle nostre e quindi come dire dell'utilizzo di modelli animali adeguati e in un numero il più limitato possibile per bilanciare questi due interessi e su cui diciamo parliamo in questo senso appunto il progetto che si chiama Light Up di cui sono responsabile utilizzava una serie di metodi una serie di misure e di interventi che comprendevano sia lo studio nei pazienti uno studio diciamo non invasivo e correlazionale sia uno studio su primati non umani per consentire appunto di sviluppare quelle tecniche e di definire quei circuiti specifici più efficaci per intervenire e poi per proporre diciamo ai pazienti una strategia di riabilitazione che fosse in qualche modo sicura in prima battuta e poi efficace il più possibile questo diciamo programma è stato tradotto in una campagna che nasce diciamo nel giugno del 2019 e animata da quella che è la maggiore associazione diciamo anti-vivisezione nonostante come dire il termine non figuri più e la pratica non esista più non sia più consentita però ha mantenuto diciamo il suo efficace evocativa e anche il nome che si chiama la lega anti-vivisezione che appunto inizia la campagna nel 2019 con questo comunicato di cui non stiamo come dire a guardare troppo i dettagli ma che sostanzialmente dice i ricercatori accecano sei macachi e l'intervento è molto invasivo e doloroso e dobbiamo fermarla questa diciamo campagna mediatica che inizia attraverso una raccolta di firme sulla piattaforma change.org viene poi ripresa ripetutamente qua ho presentato solo alcuni esempi ma insomma è stato un anno e mezzo in cui il mio malgrado devo dire perché non ho né l'attitudine né avevo né avevo nessuna soddisfazione da questa vicenda è stata ripresa ripetutamente su quotidiani nazionali e anche sui maggiori telegiornali italiani ecco normalmente questi sono filmati ma è sempre difficile condividere online filmati non si sente l'audio non si vede quindi ho semplicemente trascritto alcune delle frasi chiave con cui il TG2 ad esempio che si è distinto per particolare per particolare faziosità nel rappresentare questi episodi appunto gli esperimenti vengono rappresentati letteralmente nei servizi con queste parole atroci sofferenze indicibili dolore scimmie abituate a vivere liberi in piena natura cosa che è un falso normativo perché i primati non umani impiegati per la ricerca devono essere per due di seconda generazione di animali nati cresciuti in cattività quindi diciamo c'era una serie di elementi di oggettiva falsità rispetto al dato di realtà e anche invece di enfasi diciamo così rispetto ad alcune questioni questo è un altro servizio in cui diciamo la sperimentazione animale che è la pratica che esiste c'è una differenza fondamentale che magari dopo affrontiamo tra di sezione sperimentazione animale appunto la sperimentazione animale viene presentata col termine dispregiativo di dissezione che indigna la popolazione viene fatto un paragone con una vicenda nota e finita con 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 condanne rispetto ad un allevamento di animali di cani per la sperimentazione animale che nulla ha a che fare naturalmente né con la nostra vicenda né col fatto che appunto è quello forse un allevamento e non uno stabulario non un laboratorio di ricerca e rispetto ad altri temi diciamo e altri stilemi che poi riprendiamo e che mi interesserebbe comunicare rispetto a una sorta di cassetta degli attrezzi intellettuale concettuale con cui affrontare questi temi cioè non serve a niente è inutile la ricerca è inutile non ci dà garanzie del risultato non ce le dà adesso e quindi se non ci dà una garanzia immediata di risultato la ricerca è inutile che sostanzialmente è un discreto ossimoro perché ricerchiamo per definizione l'ignoto e quello che non è conosciuto se facessimo esperimenti in cui il risultato è già scontato sarebbero come minimo diciamo esperimenti inutili se sono utili lo sono nella misura in cui non promettono e questo mi riallaccio a quello che giustamente diceva prima il professor Ciccarelli ma anche la professoressa Morelli non in quanto sensazionalisticamente promettono un risultato che non sono in grado di promettere ma perché perseguono con gli strumenti della ricerca e del metodo scientifico e quindi attraverso la pubblicità del risultato la riproducibilità la discussione all'interno del contesto scientifico perseguono razionalmente delle strategie di conoscenza possibili che devono essere testate e che reggono solo nel momento in cui possono essere sottoposte al giudizio della comunità e alla loro falsificabilità in questi diciamo anno e mezzo per darvi una sintesi di quali sono diciamo gli elementi lessicali abbiamo fatto un'analisi lessicale di oltre 200 comunicati delle associazioni animaliste e articoli comparsi su giornali su giornali nazionali e vedete il termine con cui la sperimentazione animale in questo caso specifico la mia ricerca ma diciamo non c'era nulla di diverso rispetto al modo di approcciare altri tipi di ricerche che fanno uso di sperimentazione animale viene riportata e queste sono diciamo l'analisi testuale in cui appunto nella 20% dei casi compare la parola inutile fallimentare obsoleto oppure inaccettabile cinico crudele violento tortura nazisti uccisione morte riferimento oppure riferimento come dire alla loro ammissibilità legale illegale vietato doloroso quindi i temi sono questi sono quelli della utilità o meglio della inutilità della trasparenza di cui ci parlava anche prima il professor Ciccarelli cioè il fatto che la sperimentazione animale e altri ambiti della ricerca biomedica in realtà non servono a produrre conoscenza non servono a migliorare la qualità della vita delle persone a curarle ma servono a mantenere un sistema diciamo di arricchimento di lobby di privilegio quindi mancanza di trasparenza un altro tema è quello delle competenze chi decide se è una ricerca innovativa chi decide se va finanziata chi decide se il risultato è efficace o no e quindi una messa in discussione diciamo in una grossa arena mediatica dove chiunque si presenta come esperto e chiunque può criticare chiunque altro sulla base sostanzialmente di titoli autoreferenziali e poi il tema appunto della sofferenza e del bilanciamento etico e qual è una delle prime e più ovvie conseguenze se vogliamo come dire sociali ma anche personali dell'utilizzo di questo tipo di linguaggio e questo tipo di modalità nel rappresentare la ricerca biomedica e la sperimentazione animale questo che i ricercatori che la portano avanti e che diciamo non solo non se ne vergognano ma ne difendono la indispensabilità e ne difendono la scelta etica e restando pienamente come dire nel perimetro della legge sono fatti oggetto di diciamo minacce di prima sui social poi nella vita reale appunto io ma anche il collega con cui abbiamo questo progetto in condivisione che il professor Bonini dell'Università di Parma abbiamo ricevuto appunto presso le nostre abitazioni o presso i nostri uffici lettere con minacce proiettili e poi vedete insomma che questo ha espanso diciamo qualsiasi è affermeato per un lungo periodo qualsiasi spazio diciamo della nostra vita privata e della nostra vita pubblica ecco alcuni di questi elementi sono particolarmente interessanti mettiamola così osservandoli da distante perché si intersecano con il discorso dell'age speech quindi dell'odio che appunto la senatrice Segre ha portato avanti in modo così ammirevole nel senato della repubblica e qua vediamo come dire uno dei piccoli esempi è istruttivo leggerlo guardate e sono uno di alcune migliaia ma è istruttivo poverina l'ebrea che non ha capito un cazzo dell'olocausto imposa con l'assassino vivi settore di merda tanietto gli ebrei no nei campi di sterminio sì invece gli animali nei laboratori di sterminio merda schifosa allora è un turpilocchio che ci che ci dà un pugno allo stomaco ma è proprio per questo come dire che ho voluto farvelo vedere e adesso ripeto solo un esempio peraltro ostentato con 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 grande naturalezza io come dire in un atto di di pietà se vogliamo ho oscurato il nome ma tutti questi messaggi e molti altri sono come dire rivendicati a viso aperto non c'è nessun tentativo come dire e anche nessuna consapevolezza della gravità di quello che si dice sono tutti o quasi tutti presentati e legittimati a viso aperto e qua vediamo altri esempi diciamo altri colleghi il professor Fadiga di Ferrara sul muro appunto dei suoi laboratori oppure a Milano le scritte che sono che sono comparse presso la sede di Teleton questa che vedete diciamo era un simpatico cartello appeso davanti a casa del appunto del mio collega professor Bonini e quindi questo ha una una ripercussione non solo naturalmente sulla vita delle persone il che ha un certo rievo ma non ha ancora un impatto sociale ma ha a che fare come dicevamo prima con l'agibilità scientifica in qualche modo di questo paese e con la compressione della libertà di ricerca non per via normativa per via legislativa ma per via di intimidazione sostanzialmente la libertà di ricerca come dire sintetizzavo qua è espressa e tutelata da ben due articoli costituzionali l'articolo 9 che dice che la repubblica appunto promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e l'articolo 33 che ritorna a riprendere il tema specificando appunto che la scienza l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento libero non vuol dire che ognuno si alza al mattino e fa quello che vuole su chi vuole naturalmente questo è la costituzione che stabilisce principi primi che poi la normativa corrente va a definire nei suoi dettagli quindi libere nel contesto della normativa nazionale europea che regola come quando e perché si può fare un determinato tipo di attività in questo caso si può fare sperimentazione di malattia ritorniamo tra un attimo su questi aspetti diciamo più più normativi legislativi ripeto non per entrare nel dettaglio ma per cercare di dare esempi concreti rispetto ad alcuni temi generali ma adesso passiamo a quello che accennavo prima cioè esiste una tensione etica naturalmente che permea chi fa sperimentazione animale e che poi è stata trasposta nella norma che è reale e tipicamente questa tensione dalla narrazione animalista viene svilita perché un elemento fondamentale che riguarda la possibile efficacia e la ricaduta sulla salute pubblica della sperimentazione animale e la impossibilità di raggiungere alcuni alcuni obiettivi di cura e di conoscenza facendo a meno della sperimentazione animale viene sostanzialmente derubricata all'interesse sadico di una lobby e ad una pratica obsoleta senza nessuna utilità peccato che diciamo esistono alcuni dati di realtà e vediamo alcuni esempi perché poi il tempo è galantuomo su alcune di queste cose ne ho presi tre a caso abbastanza recenti uno è l'ebola e vedete questo comunicato del 2014 anche qua il linguaggio è interessante la forma con cui la grafica è rappresentata è interessante ed è molto efficace e aveva a che fare appunto con l'utilizzo di primati non umani per studiare vaccini e la cura per l'ebola beh intanto le parole sono quelle che abbiamo imparato a conoscere inutilmente curiamo la povertà invece di testare inutilmente vaccini sulle scime cioè c'è qualche cos'altro che è lì a portata di mano può essere fatto ma non viene fatto il problema è grave no tutto sommato no le epidemie si sono sempre autolimitate basta dare un apporto di minerali e vitamine e questo è fondamentale come antivirale adesso poi l'abbiamo visto anche appunto nell'esempio della pandemia da covid-19 quindi il punto cruciale non è fare ricerca non è impiegare animali in modo limitato e il minimo possibile ma sperperando soldi lavoro e vite ma è fare qualche cos'altro il vaccino dell'ebola è una chimera che non arriverà mai ed è soltanto una scusa per sacrificare sadicamente animali quattro anni dopo non moltissimo dopo è peccato che la scienza fa il suo corso e il vaccino per l'ebola contro l'ebola esiste viene scoperto viene registrato dall'unione europea e sostanzialmente conclude la fase dell'epidemia di ebola e progressivamente l'ebola sparisce come di a man mano che il vaccino avanza quindi non è più un problema di conoscenze è casomai un problema al limite di accesso alla soluzione ma l'ebola sostanzialmente è un problema da un punto di vista scientifico risolto abbiamo un vaccino sicuro che sconfigge la malattia e questo è un esempio l'altro è quello del covid che abbiamo visto tutti allora quando non si riesce a dire perché il tema è un tema propagandistico non si riesce a dire che il vaccino non serve perché siamo tutti lì che lo aspettiamo cosa si dice mentendo quindi falsificando la realtà che gli animali non sono necessari che questo vaccino è stato è stato scoperto senza l'impiego di animali e in particolare senza l'impiego di primati non umani peccato che sia perfettamente falso e quindi anche qua vedete che la strategia è sempre è quella di eliminare il dilemma etico dicendo non è vero la sperimentazione animale non serve a niente si può fare altrimenti non c'è in realtà nessun die ma c'è semplicemente diciamo una lobby potente e soltanto come ci ricorda il New York Times noi soprattutto noi europei ma anche in una certa misura gli Stati Uniti dipendiamo per la scoperta del vaccino e di nuovi vaccini e di nuove cure dalla disponibilità di primati non umani che sono diventati sostanzialmente uno strumento di potere geopolitico perché la Cina che è il principale diciamo esportatore di primati non umani per la sperimentazione animale nel momento in cui è scoppiata la pandemia ha finito di rifornire paesi europei e ripeto in parte gli Stati Uniti di primati non umani dedicati alla sperimentazione animale e un bel pezzo della nostra autonomia scientifica della nostra capacità di produrre conoscenza e di scienza attraverso l'impiego indispensabile laddove è veramente indispensabile di primati non umani si è fortemente limitate come appunto il New York Times ricordava lo sviluppo di vaccini futuri dipende dalla possibilità di testarli su primati non umani che sono diventati una risorsa introvabile sostanzialmente nel mondo occidentale quindi il mondo occidentale è diventato come dire dipendente dalle risorse sostanzialmente civiche ultimo esempio su un tema diverso che però è molto attuale come ci ricorda anche insomma la professoressa Morelli rispetto alla sperimentazione su sostanze d'abuso e sul trapianto di organi qua parliamo appunto di trapianto di organi e di quanto sia stato fondamentale la sperimentazione animale per sviluppare ad esempio le valvole cardiache ma anche il trapianto di organi gli xenotrapianti cioè il trapianto tra specie diverse ecco questo di nuovo riferiva questo comunicato alla sperimentazione per i xenotrapianti del cuore tra maiali e uomo la vivisezione è più nera all'orrore non esiste fine uno dei lati più oscuri della vivisezione in Italia parlava della normativa italiana dove appunto la sperimentazione è su xenotrapianti e sostanze d'abuso è in teoria vietata in contrasto con la normativa europea tanto è vero che esiste una procedura di inflazione e tanto è vero che questi divieti illogici e insensati continuano a essere rinviati di anno in anno ed è una notizia la scorsa settimana che sono stati rinviati gli altri tre anni però quello che viene rappresentato di nuovo queste sono sperimentazioni folli e infruttuose dal 2017 passati non moltissimi anni nel un mese fa nel gennaio abbiamo avuto come dire la notizia che abbiamo letto tutti i suoi giornali che è stato fatto il primo trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato per essere compatibile col cuore umano e l'uomo dove è avvenuto? beh purtroppo non in Italia perché in Italia questo tipo di esperimenti e questo quindi tutto l'avanzamento di conoscenza che era necessario per poi arrivare come punto finale di caduta e di sintesi al trapianto sull'uomo non è possibile quindi non è avvenuto in Italia non è avvenuto in Europa è avvenuto negli Stati Uniti ed ecco di nuovo come dire che la realtà dei fatti si poi si premura in qualche modo non solo di sconfessare ma anche di chiarire qual è la strategia comunicativa cioè quella di svilire quello che è in realtà una tensione etica che i ricercatori affrontano ogni giorno e che soprattutto non risolvono da soli e questo lo vedremo tra un attimo ma demandano alle istituzioni scientifiche alle istituzioni che la legge prevede per valutare la loro ricerca e per decidere se quella ricerca specifica può o non può essere fatta su modelli animali quale sia il modello animale più efficace e quali siano le prospettive appunto di interesse per l'avanzamento delle conoscenze per la società quindi questi elementi che hanno a che fare con un altro diciamo tema di cui brevemente vi accenno cioè quello appunto del riferimento normativo e del riferimento esterno in cui non è il singolo ricercatore a valutare sulla bontà o la non bontà sull'efficacia o no della sua ricerca ma propone la sua migliore idea ai comitati scientifici bioetici nazionali e locali dei singoli atenei perché questa sia valutata e questo è appunto un aspetto non indifferente cioè noi non siamo giocatori in campo e giudici di noi stessi chi valuta nel parlo del mio caso specifico ma l'iter normativo è uguale per tutti i progetti diciamo di sperimentazione animale chi ha valutato nel mio caso diciamo la mia ricerca e ha deciso dal punto di vista diciamo scientifico e dal punto di vista della sua sostenibilità etica e io ho presentato questo progetto appunto allo European Research Council che è composto diciamo ogni anno il panel cambia ma è composto da una quindicina di scienziati colleghi che devono non essere in conflitto di interessi quindi non devono avere pubblicazioni con me non devono avere lavori con me non devono avere finanziamenti con me più sei reviewer esterni che ne valutano diciamo i meriti scientifici e in qualche modo la possibilità di avere conoscenze che allo stato dell'arte non esistono poi rinizia da capo il processo sempre in sede europea rispetto non tanto alla bontà scientifica ma alla sostenibilità etica dei metodi che vengono proposti e quindi c'è un comitato etico diverso fatto da cinque diversi esperti di bioetica che decidono che effettivamente non si può fare corso a modelli animali a sviluppo neurologico meno avanzato quindi ad esempio non lo puoi fare sui topi devi proprio farlo sui primati non umani che non c'è modo di farlo altrimenti e che le procedure che vengono utilizzate sono diciamo rispettose degli animali che abbiamo in affidamento e che quindi riducono al minimo o azzerano sofferenze inutili dolore e che il loro trattamento è conforme appunto ai principi normativi della legge europea poi si riparte da capo a livello nazionale quindi c'è di nuovo una valutazione dell'organismo preposto al benessere animale dell'università in cui gli esperimenti vengono fatti se questa valutazione è positiva lo stesso progetto viene inviato poi al Consiglio Superiore di Sanità che è quello diciamo per intendersi presieduto in questa formazione dal dal professor Locatelli che è il massimo diciamo organismo di consulenza tecnico-scientifica di cui si dota il Ministero della Salute che deve appunto di nuovo rivalutare il progetto e poi noi abbiamo in più diciamo avuto un iter giudiziario che ha comportato altre fasi di valutazione questo diciamo è rilevante perché c'è il tema della come dicevamo prima della non solo della competenza ma anche della terzietà e chi può valutare caso per caso deve essere non solo competente ma deve essere anche indipendente ma anche libero cioè deve essere libero di poter dire dei sì questo esperimento è necessario di poter dire dei no questo esperimento non è originale o non è indispensabile e di poter dire dei forse cioè rimandare con minor o major revision al proponente dicendogli alcune cose ci convincono altre meno spiegacele meglio o modificale e quindi il valutatore istituzionale deve essere un valutatore che fonda il suo giudizio su elementi il più possibile oggettivi e il più possibile non ideologici e quindi appunto come dicevo prima deve essere libero di poter dire dei sì e dei no se l'approccio ideologico è quello che è quello dell'associazione animaliste in cui la ricerca per definizione sui modelli animali è per definizione inutile io mi sono trovato diciamo in un paio di situazioni in cui ho posto diciamo poche perché ho capito insomma che non c'era troppo da discutere sul piano razionale quindi subito abbandonato l'idea ma all'inizio diciamo la mia ingenuità ho pensato che potesse valere la pena avere un confronto civile e fare appello come dire a dati di fatto quindi una delle poche occasioni che ho avuto è stata quella appunto di porre questa semplice domanda e dire benissimo la mia ricerca è inutile e dolore perfetto ma allora ditemi una ricerca una sperimentazione avvenuta negli ultimi dieci anni che voi ritenete eticamente sostenibile e che abbia prodotto dei risultati per l'umanità fondamentali che abbia giustificato il sacrificio dell'animale e la risposta è stata sostanzialmente di silenzio perché non c'è stata rispetto ad esempio i casi che vi ho presentato prima c'era un principio rispettabile ma come dire ideologico fortemente cioè che nessuna vita qualsiasi vita animale è allo stesso valore lo stesso livello di qualsiasi vita umana e quindi per principio non è accettabile sacrificare una vita animale nella speranza di ottenere un vantaggio di conoscenza e di cura per molti pazienti e per volte mitomani quindi quello si fonda diciamo questo questa antispecismo è un fondamento rispettabile è un fondamento ideologico quando questo fondamento ideologico fa fatica a penetrare la popolazione ecco che come vi dicevo prima si spostano le carte in tavola e non si presenta più il dilemma o la questione etica per quella che è ma si dice beh semplicemente si poteva fare altrimenti si può fare senza lasciamo perdere queste queste slide insomma che sintetizzavano sostanzialmente quella che è stato l'iter giudiziario non importa che poi è stato diciamo ha trovato conferma dei principi di bontà scientifica e di rispetto dei principi etici e normativi della nostra ricerca quindi insomma non importa ma solo per darvi la fine di questa di questa storia è stata poi diciamo una dolorosa e lunga ma alla fine una riconferma della bontà delle valutazioni che altre avevano fatto sul nostro progetto naturalmente abbiamo perso un anno e mezzo insomma di lavoro di tempo di vita e di anche un anno e mezzo di ritardo rispetto a prospettive di conoscenze di cura ma insomma la conclusione ultima è stata appunto di riconferma della bontà di quello che avevamo fatto e quello che avevamo proposto e poi c'è un ultimo elemento che affronto brevemente sto controllando i miei tempi credo di aver esaurito un vero Micaela o no no puoi andare avanti ancora un po' ok no ma mi mancano due veramente due minuti che ha a che fare appunto col col il riferimento rispetto ai alle istituzioni questi erano appunto alcuni alcuni commenti che hanno che sono stati così come dire maldestri da uscire sulle pagine di science e quindi non fare un grande servizio come dire all'immagine del nostro paese nel mondo in cui appunto si parlava della nostra vicenda e si parlava del fatto che uno dei primi elementi che ha fornito informazioni non solo rispetto al progetto ma rispetto ai nomi e cognomi alle persone coinvolte è stato poi come dire offerto su richieste di accesso agli atti alle associazioni animaliste che l'hanno poi gestito diciamo complessivamente con gli esiti che abbiamo visto è stato fornito dal ministra stessa di allora dal ministero perché appunto allora vedeva nel ruolo di ministro l'onorevole Giulia Grillo ecco che poi si diciamo distinta per una serie di affermazioni controfattuali ma questo non importa ma è quello che è rilevante è il fatto che da come in altre si spezza un rapporto fiduciario tra istituzioni in cui il mondo della ricerca mette nelle mani in questo caso del ministero della salute ciò che ha di più prezioso cioè le proprie idee i ricercatori mettono nelle mani degli enti preposti cioè del consiglio superiore di sanità del ministero della salute o del MIUR nel caso dei progetti di ricerca che le loro migliori idee il modo in cui vogliono farle e si aspettano non solo valutazioni indipendenti ma la tutela diciamo come minimo della loro privacy e la tutela delle loro proprietà intellettuali e anche tutto sommato della loro incolumità e quindi diciamo questa vicenda è stata anche paradigmatica nell'evidenziare diciamo una scarsa maturità istituzione una scarsa consapevolezza della delicatezza di queste situazioni da parte appunto dei massimi organismi del governo e delle istituzioni qua abbiamo avuti altri questi sono altri esempi diciamo per affrontare un tema diciamo di prospettiva civile il giudice Franco Frattini che adesso è presidente del Consiglio di Stato era allora presidente della sezione che giudicò i nostri ricorsi dell'associazione animalista ecco la terzietà del giudice si esprimeva così la persona che poi venne a giudicare diciamo i ricorsi dell'associazione animalista parlava di questa vicenda in questi termini ma quali sofferenze sono in poi nulla giustiva a queste strutture altro che i ricercatori evitò ogni definizione quindi questo di nuovo ha a che fare diciamo se vogliamo con la maturità istituzionale dei rappresentanti politici ma anche in qualche modo con la serenità con cui il mondo della ricerca si approccia a questo tipo di valutazione a questo tipo di giudizio concludo perché non voglio portare via altro tempo soltanto con un'ultima slide dicendo qual è il costo che collettivamente paghiamo rispetto a una restrizione appunto degli spazi di agibilità scientifica della tutela del valore della sperimentazione animale vi faccio un esempio rispetto a quelli che sono diciamo tra i progetti europei più prestigiosi in questo caso per giovani post-dottorandi questi sono i risultati completi dell'anno precedente e come vediamo gli italiani gli italiani che hanno proposto progetti innovative di frontiera nell'ambito nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca sono molti siamo i secondi per nazionalità ad avere ottenuto finanziamenti 53 finanziamenti proposti da ricercatori e ricercatrici italiani il problema è che di questi 53 soltanto 20 sono restati nel nostro paese gli altri 33 sono fatti da italiani all'estero se noi guardiamo quello che è successo per il stesso tipo di grant ma della diciamo della fascia di anzianità superiore cioè quelli di fascia di mezza età diciamo come me come il mio grant scopriamo che gli italiani sono i primi a ottenere finanziamenti 47 progetti nell'edizione del 2020 soltanto che se noi guardiamo di nuovo quanti di questi vengono poi svolti in Italia solo 17 restano in Italia e i restanti 30 emigrano all'estero o sono già proposti da italiani che stanno all'estero quindi vi lascio diciamo con una così una immagine che forse parla più e meglio delle mie parole e che è stata molto efficace diciamo nel contrastare questa narrazione animalista sulla sperimentazione animale che dice appunto che è l'animale che non vedi che non vedi in questa foto che ha veramente salvato quella vita e che ha veramente aiutato il recupero di quella giovane paziente grazie grazie a te Marco perché hai ci hai dato un'idea veramente di tante problematiche tante laddove l'importanza della ricerca di base e l'importanza anche di investire in modo corretto su questa ricerca riconoscere il valore di questa ricerca ovviamente diventano e sono ha dimostrato come siano attualmente dei problemi dei problemi della nostra società del nostro governo perché perché obiettivamente anche questi tutti i giovani le idee che non possono essere realizzate in Italia questa è una responsabilità grossa del nostro del nostro governo ovviamente a parte ovviamente la vicenda che che ti ha coinvolto che noi conosciamo Michela la conosce sicuramente benissimo e immagino ovvero Michela immagino abbia sicuramente qualche l'ho conosciuto grazie a questa vicenda perché la vicenda diciamo noi la conosciamo bene soprattutto Michela e quindi è veramente ha dell'assurdo ha dell'assurdo ma vediamo se il pubblico vuole fare magari qualche richiesta specifica vuole scrivere in chat qualche domanda specifica su questo quello che tu hai appena appena presentato cioè appena raccontato il valore della sperimentazione animale e come come ma il linguaggio come la 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 traduzione no? come diceva prima il professor Ciccareti la traduzione da un linguaggio scientifico a un qualcosa divulgativo sia effettivamente complessa non si riesce evidentemente a far capire qual è veramente il fine di quella che è una ricerca di base senza ricerca di base non potrà mai esistere una ricerca applicata e quindi se non riconosciamo il valore della ricerca di base su cui investiamo così poco purtroppo in Italia è chiaro che non possiamo andare da nessuna parte Michela vuoi commentare tu che sei una neuro sensualta no io direi di lasciare poi tutto alla fine adesso siamo partiti dal filosofo lo psicobiologo adesso andiamo al fisico ad Andrea Mameli e poi lasciamo tutto lo spazio per le domande alla fine a questo punto d'accordo allora quindi Andrea Mameli ha una laurea appunto in fisica e un master in comunicazione della scienza lavora in un centro di ricerca è giornalista pubblicista e ha scritto libri divulgativi ha ideato e conduce una trasmissione radiofonica dedicata alla disabilità da dieci anni frequenta corsi di recitazione al suo attivo la partecipazione a film e serie tv ha scritto prodotto e mandato in scena due monologhi divulgativi vi suggerisco di guardarli su youtube uno si chiama il bidello di Pacinotti del 2020 e l'altro Eva Mameli scienziata pioniera del 2021 e oggi ci parlerà del ruolo della parola nella comunicazione in ambito biomedico grazie prego Andrea grazie condivido subito la presentazione che mi aiuterà in questa in questo percorso ditemi se la vedete bene si mettila a schermo intero così la vediamo meglio si aspetta che non l'ha fatto partire da qua lo rifaccio da qui io c'ho la schermo intero perfetto va benissimo adesso perfetto ok allora mi servo di questa di queste immagini che ho tratto scusate da da un film recente per rappresentare quella attraverso l'allegoria della scienza che che regista Adam McKay è riuscito è riuscito a realizzare quella difficoltà anzi l'incapacità nel caso del dottor Mindy interpretato da Leonardo Di Caprio di far apprezzare realmente e in tutta la sua drammaticità la sconvolgente verità cioè l'arrivo di una di una cometa che ridistruggerà il pianeta Terra di fronte a chi alla presidente degli Stati Uniti nel film Mary Lee Streep che potrebbe teoricamente fare qualcosa ordinare qualche intervento come accade in molti film catastrofici ma quello che mi interessa puntare e portare la vostra attenzione è il breve dialogo tra il dottor Mindy e il direttore di ripartimento della difesa planetaria il dottor Oglethorp che mi sembra estremamente significativo in quest'ambito lo riporto con immagini per non utilizzare un frame del film stesso con le parole in lingua originale e i sottotitoli reali che ha utilizzato Netflix anche perché è interessante vedere la differenza tra i due e qui che in questo scambio molto rapido che avviene prima della partenza di un di un vagone della metropolitana in cui Di Capiro sta per entrare che la persona che deve fare l'interfaccia tra lo scienziato e il presidente gli dice devi solo raccontare una storia e devi mantenerti sul semplice in inglese gli dice non math in italiano viene tradotto niente numeri è interessante come si è inteso utilizzare una parola diversa il senso cambia e non cambia ma rispetto a quello che vi voglio dire non cambia sostanzialmente quello che conta è poi la risposta del dottor Mindy ma è tutto matematica ho tradotto da Netflix ma i numeri sono tutto ecco forse in questa in questo scambio è tutta quella difficoltà che come diceva prima il professor per Paolo Cicarelli è quel lost in translation è quella quel rischio di perdita di significato nel passare dal linguaggio scientifico a un linguaggio naturale la necessità dello scienziato di riportarsi alla base matematica o ai dati numerici è invece la necessità opposta in quel caso del potere politico che potrebbe intervenire per risolvere il problema che ha bisogno di altre parole e di altri altri tipi di messaggi c'è una recensione del film molto attenta intitolata Don't Look Up La fine del mondo ai negazionisti i negazionisti e gli avidi di Aldo Pisano che ci dice che il film nasce da una una sceneggiatura ben precedente alla pandemia di Covid-19 eppure sembra vorrei raccontare attraverso il filtro del genere proprio le contraddizioni del mondo in cui ci troviamo e dice ancora nel film la strutturale messa in crisi del metodo scientifico da parte di masse ignoranti sedotte dalla pseudo controinformazione dal complottismo risuona con l'attualità del mondo post-coronavirus e qui il protagonista con l'intuizione del regista McKay sembra inquadrare perfettamente i pifferai di Amelie che per tornaconto personale accompagnano in maniera spregiudicata l'opinione pubblica verso posizioni negazioniste e antiscientifiche il registro si concentra non sulla tensione e la spettacolarità legata all'impatto del gigantesco asteroide con il nostro pianeta ma sulla collisione tra la realtà fattuale e la confusa percezione delle masse manipolate emotive e disinformate è questo il vero cuore del film vortice di ignoranza fake news mio più politica interessi economici e tracotanza un tornado che non risparmia nessuno e tocca tanto la classe dirigente quanto il mondo dei media e i comuni cittadini un fallimento epocale dell'umanità e infine è la voce della scienza della verità oggettiva soffocata e che non riesce più a farsi comprendere vittima di un negazionismo dilagante che invita a non guardare in alto ecco cosa succede invece portandoci dalla finzione filmica alla realtà parlando di linguaggio in ambito biomedico fermiamoci alla scena della cura nella quale troviamo un paziente o presunto tale che si reca dal medico e gli spiega dei sintomi oppure lo fa al telefono o gli manda un messaggio il medico il secondo personaggio che compare sulla scena in base a quei sintomi deve spiegare la malattia oppure la necessità di accertamenti al paziente il quale o si spaventa o non crede in quello che gli viene detto dal medico oppure e accade sempre più frequentemente sono i pazienti a cercare di fornire dei consigli molto spesso non richiesti ai medici ho letto su internet che c'è un altro aspetto nella comunicazione medico paziente che non è da trascurare come avviene con quegli strumenti ci sono delle note che poi verranno lette dai farmacisti ovviamente da altri medici che i pazienti tenteranno in vano di decifrare sulle quali riporto in basso una delle solite intuizioni della satira in questo caso Lercio che titolava medicina ha sviluppato il primo font illegibile per medici era del 2014 quando invece poi nel 2018 questa è una notizia vera il ministero della salute ha emanato delle raccomandazioni volte a prevenire gli errori in terapia con l'invito a promuovere l'adozione del linguaggio comune tra medici farmacisti e infermieri soprattutto in caso di scrittura a mano è necessario usare lo stampatello e qui si chiude la parentesi sulla scrittura dei medici troviamo ancora nella scena della cura delle altre persone che intervengono quando il medico ha ordinato degli approfondimenti diagnostici che devono effettuare delle analisi e quindi poi devono a loro volta dopo aver espletato il loro compito puramente biologico o medico o radiologico illustrare i risultati dell'analisi quindi devono attuare a loro volta una comunicazione che è rivolta principalmente al medico dal quale il paziente deve ritornare ma c'è il paziente che assiste e che comunque assiste alla scena di scrittura di questo testo comunque ha un rapporto diretto e quindi l'analista deve ancora saper spiegare ciò che ha scritto al medico al paziente poi i medici se questa spiegazione non è stata sufficiente o come spesso capita il paziente ne vuole una seconda dal medico che conosce meglio i medici devono a loro volta spiegare questi risultati ai pazienti i pazienti sono sempre presenti in questa situazione perché devono capire devono poi prendere delle decisioni a parte che possono anche andare a cercarsi altre risposte o altri pareri ma soprattutto devono andare a effettuare questi altri esami in prima persona poi ci sono altre variazioni sul tema che sono pazienti in possesso di assicurazioni sanitarie che visto che non devono pagare o devono pagare molto meno rispetto a quanto pagherebbero senza assicurazione chiedono al medico altre prescrizioni per ulteriori accertamenti e questo è un filone abbastanza nuovo per l'Italia comunicazione tra medici c'è poi ovviamente un livello nel quale la comunicazione è medico-medico e questa avviene garantisce l'avanzamento della conoscenza e la circolazione della stessa o la sua confutazione attraverso gli articoli in peer review quindi sono articoli che vengono letti prima di essere pubblicati da dei comitati di controllo possono essere sotto forma di poster come in questa immagine oppure relazione a conferenze o le cose insieme cioè fare la relazione presenti l'articolo presenti il poster seminari ma c'è anche una comunicazione tra medici che avviene all'interno dei corsi di aggiornamento ECM bisogna pensare a un altro aspetto importante in tutto il mondo esistono circa 30.000 riviste mediche indicizzate la produzione si aggira intorno ai 2 milioni di articoli ogni anno di questi una parte sono articoli che saranno letti citati o come detto confutati da articoli successivi e un'altra parte sono articoli che non porteranno a granché cosa succede nella realtà oltre la comunicazione tra medici succede che al termine delle conferenze o comunque dopo che si sono ottenuti dei risultati anche le pubblicazioni vengono in qualche modo fatte circolare queste informazioni o nel modo più diretto attraverso un comunicato stampa dell'università all'interno della quale è stato sviluppato quel test diagnostico o quella clinica con ambito di ricerca che ha prodotto quell'approfondimento che ha generato un risultato importante e rimbalza sulla stampa qui faccio un esempio tra le migliaia e migliaia di questi anni è un esempio del 2016 in alto ho riportato l'articolo scientifico così com'è con le sue la sua forma tipica il titolo i numerosi autori e poi ci sarà un sommario l'abstract e l'articolo stesso questo articolo viene rilanciato in basso a sinistra su Bolle che è la rivista dell'università di Padova all'interno della quale è nata questa sperimentazione che titola ricerca malattia rare trovata la cura per la sindrome EEC che causa cicità dopo pochi giorni la notizia rimbalza sul quotidiano della città in cui ha sede quell'università il mattino di Padova col titolo Padova trovata la cura per una malattia che porta alla cicità e questo è l'iter che seguono normalmente i risultati delle ricerche scientifiche fino ad arrivare al lettore qualunque del lettore del quotidiano succedono altri passaggi invece che non hanno il passaggio intermedio del comunicato stampa una rivista pubblica un risultato che viene probabilmente pubblicato su altre riviste meno di settore qualcuno riesce a trovare il significato e lo trasforma in trovate la cura che batte il virus e questo direttamente sul quotidiano oppure esistono altri passaggi di cui non è facile poi risalire esattamente all'origine si legge per esempio sul bollettino interno all'ospedale Gemelli 2021 il 21 giugno giornata mondiale della SLA il professor Mario Sabatelli promuoviamo con forza la ricerca scientifica e l'assistenza all'interno si fa riferimento a una terapia che viene testata e si dice anche va ribadito ancora una volta con chiarezza non abbiamo alcuna certezza dei risultati la terapia potrà interessare solo il 2% delle persone con SLA cioè quelli con mutazione del gene S.O.D.1 e questo è un momento importante nella storia di questa malattia nella speranza che un primo successo possa determinare una sorta di effetto a cascata sulle ricerche di altri farmaci quindi una comunicazione prudente che avverte non abbiamo trovato la cura definitiva ma è invece su ANSA qualche qualche mese dopo la notizia sui gemelli e 12 giugno 2021 ANSA sezione salute 14 settembre 2021 SLA terapia genica si affaccia tra possibilità per la cura il quotidiano avvenire 4 giorni dopo domenica 18 settembre 2021 terapia genica anti SLA è la svolta una cura pare efficace anche qui comunque con una certa prudenza pare possibilità punto interrogativo ci sono altri strumenti attraverso i quali la comunicazione della ricerca biomedica esce dal laboratorio esce dalla conferenza esce dalla pubblicazione scientifica sono testate che raccolgono una grande quantità di risultati di ricerca da tutto il mondo questo è medicalexpress.com che presenta con un titolo una breve brevissima descrizione delle degli avanzamenti dei risultati delle ricerche che vengono presentate e chi vuole approfondire clicca trova l'articolo originale in qualche modo raggiunge l'origine della notizia la fonte alla quale poi si potrà ispirare se vuole descriverla ancora di più ci sono poi delle testate dedicate che appunto come già citata prima ANSA salute e benessere ADN Kronos salute che pescano e rilanciano notizie di tipo medico e biomedico e su tutto ciò c'è uno studio c'è un'osservazione continua e attenta come in questo articolo del Journal of General Internal Medicine del 2003 in cui si analizza il passaggio tra risultati della ricerca stampa tv radio e web ci sono poi degli studi in cui si cerca anche di andare oltre questo genere di analisi e vedere se c'è stata qualche altra qualche altra considerazione da fare nel caso del di questo articolo pubblicato sul Journal of American Medicine Neurology di Dorsey e Ritzer si parla di McDonaldizzazione della medicina è un termine introdotto da uno dei due autori nel 1993 in un libro intitolato la McDonaldizzazione della società a indicare omologazione e spersonalizzazione che in questo caso è declinata in ambito clinico e la si può inquadrare con quattro principi che sono l'efficienza la calcolabilità la prevedibilità il controllo che secondo gli autori portano a aumentare la distanza tra il medico e il paziente il dato clinico rischia in questo modo di diventare l'unico contenuto di una comunicazione che invece avrebbe bisogno di arricchirsi anche di altri contenuti di altre parole nella stessa pubblicazione la cartella clinica elettronica controlla le interazioni tra medici e pazienti specificando quali domande devono essere poste quali compiti devono essere completati sostituendo così il giudizio di un computer a quello di un medico si è dedicato a questo tema anche Fabio Fabio Cembrani direttore della medicina legale dell'ASL di Trento con un articolo sul giornale italiano di nefrologia ripensare i fondamenti della relazione di cura per generare i pericoli e le derive dalla McDonald donaldizzazione della salute in cui l'autore parla della cura medico paziente come del prodotto più autentico delle responsabilità e dell'impegno il prendersi davvero a cuore sulle spalle i bisogni dell'altro riconoscendolo come un soggetto morale autonomo mai come mezzo e sempre come fine esprimendo adesso l'attenzione verso chi è fragile la nostra fatica quotidiana lui parla da medico la nostra fatica quotidiana che è fatta non solo di performance professionale ma anche di linguaggio e di quei piccoli grandi gesti che imprimono ad ogni nostra azione quell'umanesimo cui non potrà mai sottrarsi il bisogno di umanità in quell'articolo Cembrani cita anche la diffusione negli Stati Uniti di centri chirurgici o di pronto soccorso tipo McDoctors Docs in the Box e Doctors Express limitato in circoscritto numero di problemi clinici sono attenti anche a questi temi anche i redattori del Global Investigative Journalism Network che ha nella sua edizione italiana prodotto anche questo manuale fare giornalismo d'inchiesta su salute e medicina che è facilmente accessibile e scaricabile dalla rete e spiega due aspetti particolarmente interessanti nell'analisi che si può fare per riportarla nel caso di un giornalista scientifico per riportarla sulla stampa sulle ricerche ricerche di tipo clinico e ci si può porre degli interrogativi lo studio è stato condotto su esseri umani o su animali o in vitro la ricerca sugli esseri umani la ricerca clinica è fondamentale quando si tratta di valutare l'effetto di un farmaco o di un altro intervento sanitario sono gli unici effettivamente significativi rispetto a farmaci umani seconda domanda se lo studio è stato condotto su esseri umani è necessario porsi la seconda domanda si tratta di uno studio sperimentale o di uno studio epidemiologico uno studio sperimentale i ricercatori verificano se l'intervento A porti realmente al risultato B tra gli studi sperimentali l'unico in grado di dimostrare una relazione di causa effetto è lo studio randomizzato controllato con partecipanti e controllo cioè vi sono dei soggetti che partecipano realmente all'esperimento e altri che invece sono messi lì in funzione di controllo il controllo è attribuibile al farmaco al vaccino sottoposto a valutazione in modo che la differenza sia evidente tra i due gruppi su tutto ciò esistono degli strumenti come questo che ho trovato cercando rapidamente in rete fake news in sanità come riconoscere e originare la disinfodemia esistono quindi dei corsi con accreditamento ECM che spiegano cosa sono le fake news in sanità perché attecchiscono tra le persone spiegano come riconoscerle cosa si può fare per originarle e combatterle e le buone pratiche per informare i pazienti verranno forniti consigli sulle fonti da prediligere controlli da effettuare e spunti per chi volesse fare informazioni in modo corretto quindi un corso che si rivolge a chi vuole fare comunicazione in sanità notizia di oggi il 24 febbraio a Cagliari si terrà un corso di aggiornamento per giornalisti intitolato tumore tra informazione e comunicazione ai tempi del covid allo scopo di informare dell'importanza dell'informazione e della comunicazione oncologica questi due esempi per dimostrare che esistono e vengono condotti degli sforzi notevoli anche in questo senso lo fanno anche le Nazioni Unite combatte la disinfodemia ai tempi del coronavirus con lo scopo di distinguere tra fatti e voci incontrollate e fornisce della documentazione al riguardo ritorniamo al tema principale della mia comunicazione che è il ruolo della parola e quindi del linguaggio nella ricerca in medicina e ci sono degli studi esattamente anche su questo come quello pubblicato nel 2018 con il titolo Riconsiderando il ruolo del linguaggio in medicina in cui l'analisi punta a vedere quale linguaggio come evolve il linguaggio di comunicazione tra medici tra medici e specializzanti la corretta interpretazione delle cartelle cliniche e le dinamiche di potere che si instaurano tra medici e pazienti vi ho estratto alcuni passaggi chiave da questa ricerca molti studi si concentrano sul rapporto medico-paziente su una necessità di dialogo e come detto la corretta interpretazione delle cartelle cliniche e le dinamiche dei potere che si instaurano tra i medici e i loro pazienti l'enfasi sulla precisione può migliorare l'attenzione e la standardizzazione ma trascura un elemento vitale le storie che i pazienti stanno raccontando quindi invoca l'ascolto che ha il vantaggio e fornisce come effetto seguire la guida del linguaggio spesso luogo di strani sentieri fino a raggiungere una corretta comprensione un ascolto che culmina nell'ingresso nel mondo del paziente in questo modo si apre il vero background del paziente che è necessario conoscere per un intervento efficace e su questo si sono impegnati anche due giornalisti scientifici italiani Marco Ferrazzoli del CNR Giovanni Maga che l'anno scorso per Zanichelli hanno pubblicato pandemia infodemia come il virus viaggia con l'informazione parlano quindi della circolazione di una quantità eccessiva abnorme di informazioni talvolta anzi spesso non vagliate con accuratezza che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento il web scrivono gli autori offre infinite possibilità alla comunicazione ma anche all'ignoranza che rischia paradossalmente di aumentare assieme alla disponibilità delle informazioni e sottolineano quello a cui stiamo assistendo siamo passati da una società verticale in cui il sapore era un potere talvolta il sapere era un potere talvolta autoritario dell'insegnante del genitore del medico una società orizzontale in cui tutti riteniamo di poter esprimere sempre opinioni di pari valore su qualsiasi argomento gli stessi autori pochi giorni fa hanno pubblicato su Nature Italy contro l'infodemia sul covid-19 l'infodemia considerata come un contagio che si espande e si diffonde e si diffonde tramite fake informazioni distorte il covid è a sua volta una sinemia ovvero un fenomeno per cui due o più epidemie interagiscono in modo sinergico rafforzandosi a vicenda la sinemia è stata introdotta come termine da Richard Horton nel 2020 sottolineando quanto per quanto riguarda il covid-19 sia importante analizzare anche le origini sociali e la diffusione della malattia si parla di sindemia anche sull'Anset 2017 quindi ben prima della pandemia covid-19 e lo introduce come il modello sindemico della salute come strumento che si concentra sul complesso biosociale che consiste in malattie interagenti compresenti o sequenziali i fattori sociali e ambientali che promuovono e rafforzano gli effetti negativi dell'interazione della malattia il termine sindemico è stato introdotto nel 2003 ne parlava Singer e Claire su Medical Anthropology Quarterly l'International Journal dell'analisi della salute è stato introdotto di recente dagli antropologi medici per etichettare l'interazione sinergica dei due o più malattie coesistenti il conseguente eccesso di carico di malattia tutto questo per arrivare a introdurre uno strumento di supporto alla medicina che si chiama medicina narrativa illustrato molto bene dal medico Rita Charon che spiega in questo libro medicina narrativa di ricordare le storie dei pazienti e l'importanza di questo strumento l'autrice invoca l'obbligatorietà di scrivere in modo narrativo fin dall'università quindi richiede con forza che gli studenti di medicina possano impossessarsi dello strumento cartella clinica non solo nella sua stesura più più asettica ma aggiungendo informazioni prese dalle storie che i pazienti stessi raccontano per capire meglio le condizioni nelle quali si trovavano prima della malattia e durante la medicina narrativa afferma che i medici a causa della loro formazione e dell'attenzione agli elementi fisici diagnostici e strumentali hanno storicamente ignorato queste storie e apparentemente sarebbe in contrasto rispetto alla medicina basata sull'evidenza ma in realtà possono convivere anzi possono aiutarsi a vicenda così scrive l'autrice da sola la scienza non aiuta a confrontarsi con la perdita della salute a dare un senso all'infermità e alla morte sembra che ci sia un prezzo da pagare per una medicina tecnologicamente sofisticata quello dell'impersonalità gli aspetti narrativi della medicina che si ritrovano nella pratica clinica di ogni giorno sono cinque la temporalità la singolarità la causalità l'intersoggettività l'eticità e li vediamo uno per uno nelle parole della stessa autrice il tempo è l'asse portante del processo diagnostico della prevenzione delle cure palliative della guarigione e anche l'ingrediente fondamentale della relazione terapeutica la competenza narrativa si distingue dalla conoscenza scientifica per la capacità di cogliere ciò che è unico cioè le storie personali del paziente come individuo una narrazione per sua stessa natura ha una trama che non si limita a riportare una sequenza di episodi separati ma fa emergere relazioni di causa effetto se sviluppiamo capacità narrative possiamo cercare molteplici relazioni di causa effetto tra i sintomi e le condizioni del paziente sbagliamo a pensare che la relazione terapeutica si fondi sull'amore sul desiderio sul potere sul denaro non è un legame affettivo familiare o commerciale si basa su testi molto complessi fatti di parole silenzi risultati fisici misurazioni di sostanze e segnali del corpo quindi gli strumenti letterari possono risultare incredibilmente utili nella pratica clinica gli atti narrativi generano doveri le storie producono una visione morale la scrittura e la lettura hanno la loro eticità quando ascoltiamo non siamo contenitori passivi ci adattiamo all'altro indaghiamo poniamo domande formuliamo ipotesi le mettiamo alla prova scaviamo alla ricerca di interpretazioni possibili scorgiamo indizi ovunque la medicina narrativa è entrata nella pratica da diversi anni anche in Italia segnalo una conferenza di consenso realizzata all'interno dell'istituto superiore di sanità dal centro nazionale delle malattie rare nel giugno 2014 dal titolo linee di indirizzo per l'utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico assistenziale per le malattie rare e cronico degenerative in cui le relazioni erano sui quesiti qual è la definizione di medicina narrativa quali sono le metodologie degli strumenti utilizzati nella medicina narrativa quale può essere l'utilità in quali ambiti e contesti quindi esperienze applicative in questa conferenza ha parlato Nova del Sole 24 ore 15 giugno 2014 in cui l'autrice di questo lungo articolo in cui ho riportato solo la prima parte Cristina Cenci antropologa ha sottolineato una giuria di esperti medici associazioni dei pazienti si è confrontata sulla definizione di linee di indirizzo per l'applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica i partecipanti hanno cercato di circoscrivere capire e organizzare un ambito sfuggente difficile stratificato con l'aiuto di un'analisi dettagliata e attenta di 1600 studi e sperimentazioni offerte da studiosi ed esperti quindi lo studio e l'analisi e la proposta anche formativa della medicina narrativa avanza anche in Italia è il sito di riferimento medicina narrativa punto EU propone un'esercitazione pratica di lettura analisi e classificazione delle storie che potrebbe diventare anche una proposta operativa per le vostre classi e l'introduzione è questa prima di leggere le storie il primo passaggio è la lettura incondizionata delle storie come semplice attività di osservazione senza ipotesi a priori nella seconda lettura delle storie prova ad utilizzare uno o più delle seguenti classificazioni le tre definizioni inglesi di malattia disease illness sickness le tre forme invece di di raccolta degli indizi restitution chaos quest storie di regressione stabile in progressione e poi altri elementi di spunto che possono essere utilizzate anche come strumento didattico non solo per approfondire la medicina narrativa in sé ma anche per capire la potenza della narrazione stessa e qui introduco un ultimo strumento operativo che voglio proporre partendo da questa da questa analisi che fa del pensiero e del linguaggio rispetto al contenuto scientifico di Piero Angelo esiste una soglia al di sotto della quale la macchina mentale non si accende e una al di sopra della quale si inceppa per questo possono opportunamente essere utili le metafore le metafore letterarie trasportano dal noto all'ignoto sono state citate anche nel primo intervento oggi e la loro potenza è legata a che cosa a una miniera incredibile che è l'immaginario condiviso e sono anche molto molto scritte in tempi ancora molto molto distanti da oggi il tempo divora ogni cosa e il naufragarmo è dolce in questo mare e ce ne sono come abbiamo sentito prima una quantità smisurata le metafore scientifiche invece trasportano l'opposto dall'ignoto al noto ignoto per i più è conosciuto soltanto da chi per esempio ha realizzato una determinata scoperta a chi invece vuole capirla apprezzarla aggrappandosi a qualcosa che già conosce in questo caso lo scopo della metafora scientifica è aggrapparsi a un fenomeno conosciuto aprendo uno squarcio nella mente di chi ascolta o di chi legge tra il linguaggio scientifico e l'esperienza comune ce ne sono alcune che sono entrate nel linguaggio e si sono radicate come l'elica del DNA in ironia specchio ho la stessa parola DNA è nel DNA è nel nostro DNA aziendale è nel nostro DNA di squadra possono dire un imprenditore o un allenatore di qualsiasi sport quindi sono parole che sono entrate nel linguaggio comune e ormai non hanno più quasi il loro hanno quasi perso il loro significato altre invece lo perdono in maniera forte come perdono significato scientifico come l'analogia tra il sistema planetario e il modello atomico di boro può essere utile in questo caso fare delle ricerche su metafore che si sono spente sono cadute con le proposte scientifiche che veicolavano come quelle delle maree del riscaldamento del 1600 legate legate al sangue che ebbero vita breve perché in poco tempo Malpighi dimostrò che ciò su cui si basavano non aveva più senso la proposta operativa è quindi quella di coinvolgere la classe nella ricerca di metafore da individuare nel linguaggio che si sente o si utilizza in casa o nelle parole che si sono sentite poniamo in qualche film o in serie tv o ambientate in ospedali o quelle realmente usate dai medici e capire in ultima analisi quali parole usiamo per parlare delle malattie per raccontare il nostro stato per rispondere alla famosa domanda come stai alla quale spesso si risponde sbrigativamente invece potrebbe dare degli appigli a qualche interpretazione reale utile quello che vi ho detto sulla medicina narrativa l'ho trovato nel libro che vi ho che vi ho accennato poco fa medicina narrativa onorare le storie di pazienti che suggerisco come spunto per approfondire sulla tematica grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione